Apertamente, dunque per aprire la mente è un qualcosa che può essere collegato anche all'aprire gli occhi. Allora secondo me l'invito di questa edizione di Solidaria è quello di aprire insieme la mente e gli occhi. Aprire gli occhi, non vuol dire aprire tutti i nostri sensi, significa renderci conto del contesto in cui viviamo. A questo contesto diamo il nome di paesaggio e il paesaggio è il luogo in cui viviamo ma è anche come lo viviamo, come adesso attribuiamo valore, come condividiamo questi valori, queste attribuzioni di valore con le persone che in questo luogo abitano insieme con noi. E questa condivisione è quella che ci può portare ad avere progetti attraverso anche una mente aperta che li rielabora verso un futuro di condivisione. Grazie. Grazie.